buonasera cari amici del fatto nisseno scusa abbiamo delle difficoltà gestionali sulle nostre emozioni alle nostre spalle siamo zona scarabelli per intenderci un negozio che ormai è diventato quasi storico acquisito dal commercio e esprime commercio anche in città un negozio di cinesi oggi sui social su facebook sta spopolando diciamo una sorta di barriera nei confronti della propria attività dove i signori con la mascherina presi dalla sindrome da coronavirus e si tutelano dai nisseni è questa cosa però perdonami la chiave di lettura prima di fare certe affermazioni visto che siamo accanto a nissetta sono loro che si tutelano dei segni o è una presa di responsabilità e non vogliono condaggiare un'assunzione di responsabilità e allora verifichiamo se non ammazzano all'ignate e si fa un caso diplomatico con la gina verifica anche perché già papa francesco ci ha messo le sue seguiteci e allora andiamo ad accertarci del perché di questa insolita barriera muraglia ginese qui a calcanistra attenzione alle macchine michele perché ci schiacciano buongiorno 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 prego siamo del fatto nisseno vieni 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 vorremmo farle una domanda per favore siamo di un giornale vorremmo farle una domanda tranquillo tranquillo vieni 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 no no ho capito volevamo capire questo è fatto per continuare a lavorare senza avere con senza virus tranquillo tanto facciamo finta noi siamo amici sicurezza io non ho malato sicurezza ciao siamo 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 del fatto nisseno allora spieghiamo siccome sta spopolando sui social anche perché voi ricevete molti prodotti che vengono da fuori io aiuto tu aiuto io così capito e noi aiutiamo te questo aiuto ti aiuto io ma questa mascherina è una mascherina cinese c'è tu le vendi perché faresti business a trovare le mascherine a vendono vendono e tu questa decisione l'hai presa l'hai presa perché sin quanto durerà questa situazione no ma dico questo è la barriera che hai costruito niente a 6 gente sopra scende il guaio più su così per la più ok hai visto visto guardate in questo momento come avvengono le vendite prego prego buongiorno prego questa mi sta riprendendo non capisco perché perché facciamo il nostro dovere di giornalisti siccome ma neanche noi è lui che ha paura di noi è una forma di rispetto nei nostri chiaro è chiaro ma noi ci stiamo raccontando delle mascherine noi lo ringraziamo per questa cosa c'è la fase c'è questo va benissimo 171 ho fatto 7 mani va benissimo e allora ho sentito 41 molto e allora buon lavoro va bene va bene ciao a me la mano pure a me dai siamo qua con l'amico che ci ha spiegato ti chiami io solo io sono io alessandro lo zovro di cina e da qua la casa in setta è tutto ha spiegato che praticamente è un motivo di cautela del porto quindi nessuno lo ringraziamo anche per il senso di responsabilità 10 anni da 10 anni ormai un nisseno un siciliano acquisito va bene anche lo 100% io non ho malato io e cina non ho andato la 100% e allora questo malato tutto bisogna tutto mondo non solo cina solo qua grazie allora saluta gli amici del fatto di assoluto a chi gli amici del fatto di assoluto amici amici del fatto di assoluto di questo buono saluta tutto sì ma gli amici del fatto di assoluto chi no 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 niente non mi capivo va bene grazie buon lavoro grazie allora donatello abbiamo capito però quindi devo dire che grande senso di responsabilità e tra virgolette una forma di tutela verso insegna anche verso se stesso e peraltro fa piacere che un cinese da dieci anni a caltanissetta abbia questo grado di sensibilità verso la popolazione quindi un atto meritorio lo potremmo definire decisamente sì e quindi abbiamo svelato l'arcano mistero uso termini polizze un po un po' la settimana santa che cominciamo a respirare non parliamo il respirare che c'è il virus però diciamo va bene va bene buon pomeriggio va bene buon pomeriggio